Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, oggi siamo tornati su Fortnite per un nuovo video ragazzuoli Oggi sono appena uscite le sfide, tempo straordinario, le andiamo adesso a vedere tutte Adesso oggi ovviamente andremo a fare visita, diverse cascate 0 su 7, le andremo a completare in giocatore singolo Sto ridoppiando questo video perché l'ho registrato senza audio Quindi la clip non gioco effettivamente, sto soltanto registrando la voce e muovendomi anche C'è una qualità della facecam migliore Tra l'altro detto questo ragazzuoli vi ricordo di lasciare un bel mi piace, iscrivervi al canale e seguirmi su instagram emiliano.mari Per sapere, diciamo, delle anticipazioni sulle sfide di Fortnite Detto questo andiamo a vedere subito la prima cascata, eccola qua Si trova nella zona desertica vicino Palmetto Paradisiaco È il lago, l'unico lago, in verità il più grande lago che c'è in quella zona E subito dopo il lago c'è una cascata Noi ci butteremo lì per andare a prendere e completare questa missione Sarà la prima cascata di 7 Vi dico che questo video poi alla fine raccoglie una piccola sorpresa Alla fine, poi ve lo farò vedere Comunque, apriamo il paracadute e ci buttiamo Non ci sarà tanta gente qua Ci metteremo due partite per farlo perché comunque è abbastanza complicato Vi consiglio di procurarvi un mezzo di trasporto ovviamente per completare la missione È la cosa migliore, più facile, più semplice Eccoci qua, atterrati, 1 su 7 Adesso ci prendiamo qualche arma, giusto per non essere completamente indifesi Non so se sento... Sì, ok, sento anche l'audio di gioco Infatti stava passando un aereo, ero anche abbastanza preoccupato Me lo sarei voluto prendere volentieri Purtroppo non è stato possibile Adesso ragazzuoli, seconda zona Lì c'è un aereo ma non riusciremo a prendervelo Vi faccio questo spoiler Lì c'è una persona che non ci caga perché sta completando anche lui la missione Questa la vedete sulla mappa È alla fine dello stesso fiume Quindi potete tranquillamente seguire il fiume Atterrate qua e completate la seconda missione La seconda parte della missione Quindi siamo a 2 su 7 ragazzuoli A questo punto arrivare in safe è praticamente impossibile Eccoci qua che entriamo nel muro della safe Preferisco quindi fare due partite invece che arrivare in safe e provare Questa è vicino a Prod'Aventurato La fine del fiume più grande che divide l'isola di Fortnite in 2 Vi buttate là e completate la missione Siamo a 3 su 7 E qui ci suicidiamo malamente Per ristartare appunto una nuova partita E andarci a fare la quarta missione Sulla quarta cascata su 7 Che si tratta al rifugio ritirato Voi direte ma figa come al rifugio ritirato Esatto a rifugio ritirato c'è una cascata C'è un fiumiciattolo che parte da una montagna E arriva non so se è al mare o dove finisce il fiume A Prod'Aventurato in verità Però c'è di rifugio ritirato scusate Però c'è c'è un fiumiciattolo Lo vedete Ovviamente più vecchi di voi Sicuramente per la maggior parte dei giocatori incalliti se lo ricordano Però non è proprio proprio scontato Non ci pensi che lì ci può stare una cascata effettivamente Parte da quella grotta Fa qui una discesina E non è questa appunto la cascata Bensì è quella successiva Dopo il cartello Lì c'è un cartello Passato il cartello C'è appunto questo dislivello E vorrei, sarei curioso, andare a vedere poi dove finisce In mare probabilmente 4 su 7 Andiamo a vedere la quinta Qua troviamo l'overboard La nuova aggiunta di questa patch Che hanno fatto Non è un aggiornamento in verità Hanno soltanto aggiunto questa Hanno aggiunto anche tra l'altro una nuova modalità Che andremo a provare sicuramente Fantastico sto coso È bellissimo Oh ma ragazzi È assoluto Io vi dico Che è veramente incredibile Comunque Prossima cascata Si trova A profondo Stantio Ce ne sono in mille mila Là perché Comunque è la zona con più acqua Della mappa Praticamente E lì sicuramente troveremo Un sacco Un sacco di cascate Si di cascate Vabbè quello che è Tanto Diverse cascate Non so se Ce ne da più di una Voglio controllare una cosa In questo momento Comunque Non ci vuole tanto Non è tanto Eccoci qua 5 su 6 Sbloccata A sprofondo Stantio Ecco Altra clip Velocissima Ragazzi Mostruoso Disaggiante Ho scalato Sta montagna Vedete Cioè Non so quando ho visitato L'ultima Però è assurdo Perché ci ha dato La missione così Bonus Fantastica Cioè ce ne ha data una in più Non so dove è stata la Perché ho fatto la quinta E poi non so la sesta Ma vi giuro che Cioè me ne ha date due qua Comunque Ve ne faccio Ve ne segnalerò altre All'interno del video Appena ci arriviamo Ve lo faccio vedere Così potete avere modo Esatto Di completarle Ne troverete sicuramente una Lì appunto Dove vi faccio del marker adesso E poi Non so in verità Qualche altro Non so se sono precisamente Sette nella mappa Comunque Una mappa intera Ce l'avete Ragazzi Per questo video è tutto Ringrazio tantissimo Per la visione di lasciare mi piace Se il video vi è piaciuto Iscrivvi al canale se vi è fatto Di condividere il video E farmi uscire una versione Mi raccomando Passate tutti i link in descrizione Facebook, Instagram e Telegram Noi siamo come al solito Un prossimo video Tra pochissimo Con le ultime sfide A tutti ragazzi